Alessandra Ambra, amministratrice di CIF Italia, nonché organizzatrice di Expo Food & Wine. Una grande sfida, una sfida coraggiosa nel cuore della Sicilia. Assolutamente sì. Sono veramente contenta e ringrazio tutte le aziende che hanno creduto nel progetto, le aziende, i partner, le istituzioni che appunto come il Comune di Catania ci è stato vicino e ci sta dando un grande supporto. Un obiettivo raggiunto è quello di realizzare un evento di eccellenza siciliana dove le aziende hanno la possibilità di rimanere nel proprio territorio ma parlando ai mercati esteri. Saranno presenti cinque delegazioni estere e quindi è un obiettivo raggiunto quello di internazionalizzare l'eccellenza siciliana. Attenzione al commercio, attenzione alla ristorazione ma anche alla cultura e all'approfondimento scientifico con la parte convegnistica. Assolutamente sì. Non sarà solo esposizione ma sono tre giorni ricchi di eventi dove si alternano laboratori, degustazioni, show cooking ma soprattutto dove verranno anche trattati degli importanti argomenti che riguardano anche il mangiare bene, il mangiare sano e quindi la nostra salute. Si tratterà di gluten free, si tratta di grani siciliani, si parlerà di biodiversità, quindi tutti argomenti importanti che sono alla base della nostra cultura alimentare. Grazie.